25 vignette folgoranti, ironiche e piene di saggezza raccontano la visione di Altan sulle tematiche ambientali. Sono il contributo che Covate e Conow hanno deciso di offrire al dibattito che si svolge a Bologna tra i ministri dell'ambiente e del G7, all'interno della settimana All for the Green. I due consorzi sono impegnati da oltre 30 anni sul fronte della sostenibilità ambientale, rappresentano un'eccellenza italiana. I disegni del celebre fumettista sono stati esposti alla Fondazione Cineteca di Bologna e il ministro Gianluca Galletti ha deciso di donare ai colleghi del G7 la vignetta realizzata apposta da Altan per l'evento internazionale. Quale messaggio vuole lanciare a favore dell'ambiente? Queste sono nate nel tempo, alcune hanno più di 25 anni forse, per cui sappiamo bene che questo problema è molto antico e non si vedono ancora vere soluzioni. Il messaggio è molto semplice, che l'ambiente va rispettato perché senza di lui noi non esisteremmo. Io ringrazio voi per questo ulteriore magnifico regalo che fate alla città di Bologna e al G7. Ringrazio il Cobat, il Conou, invece i consorzi sono una delle grandi innovazioni del nostro paese. Nella raccolta differenziata, nel riciclo, stanno dando soddisfazione all'economia di questo paese. Ci permettono di trasformare il rifiuto da un costo a una risorsa e ci aprono il grande nuovo mondo dell'economia circolare. Io un ringraziamento particolare lo devo dare al maestro Altan che vi prego di salutare con un grande applauso. A volte i saggi, i libri, le conferenze, i discorsi universitari non riescono ad arrivare al pubblico. Una vignetta come quelle di Altan, piena di ironia, di intelligenza e di provocazione, secondo noi a volte ha molto più forza rispetto a tante pagine scritte. Per questo abbiamo voluto raccogliere un campione di queste vignette che si occupavano e si occupano dell'ambiente per porle all'attenzione del pubblico. È un contributo importante, secondo noi, dal Cobat, alla diffusione di una sensibilità diffusa delle problematiche ambientali. In pratica noi vogliamo cercare di arrivare ai cittadini attraverso dei messaggi e questi messaggi, quando vengono veicolati da opportunità di questo genere, hanno una valenza doppia. E quindi questa è un po' la motivazione di fondo. Altan, lui è veramente un maestro, non è mai banale in tutte le sue realizzazioni.